questo video è realizzato in collaborazione con la pagina facebook serie tv and soap di cui trovate il link in descrizione endless love cara sedda anticipazioni di sabato 11 maggio 2024 nyan e ozan ancora a casa di leila si congedano da lei e vanno via lungo il percorso nyan chiede a suo fratello cosa ne pensi della zia ma ozan risponde di non poter ancora esprimere un giudizio poiché non la conosce abbastanza nyan a sua volta confessa di aver provato un'attrazione istintiva nei confronti di leila fin dal primo istante senza nemmeno sapere che fosse sua zia ozan irritato le ricorda che sono i figli di bildan suggerendo che non dovrebbero farsi coinvolgere con una donna che non conoscono bene nyan però sostiene che non possono ignorare il fatto che la madre abbia una parte di responsabilità a questo punto ozan turbato le rimprovera di essere stata influenzata negativamente e se ne va mentre è in ufficio kemal riceve una chiamata da suo fratello taric il quale orgoglioso gli comunica di aver aiutato il padre pagando una multa kemal però non è affatto d'accordo e rifiuta categoricamente di accettare quei soldi sporchi provenienti da emir chiede quindi a taric l'ammontare della sanzione e trasferisce immediatamente la cifra della multa sul conto di suo fratello minacciando di rivelare la fonte dei soldi a tutta la famiglia se gli venissero restituiti mentre zeynep è a casa a guardare le foto di emir sul computer sua madre esce per fare la spesa ozan che sta spiando la casa da lontano vede feimi allontanarsi e decide di bussare alla porta zeynep pensa che sua madre abbia dimenticato qualcosa e senza esitare apre la porta per trovarsi di fronte ozan sorpresa gli chiede di andarsene ma lui insiste nel voler parlare le confessa di pensarla costantemente dicendo che la sua mente è stata rapita da lei provocandolo zeynep risponde di rimando affermando che anche lei lo pensa costantemente poi con un sorriso malizioso gli chiude la porta in faccia chiedendosi ironicamente perché mai dovrebbe pensarlo tornata nella sua stanza zeynep chiama subito emir il quale risponde immediatamente trovandosi in macchina gli dice che ozan la sta assillando perché è innamorato di lei ma emir minimizza la situazione definendo ozan sono un ragazzino e suggerendole di non preoccuparsi troppo zeynep chiede quando si potranno vedere e emir la invita a incontrarsi quella sera stessa esprimendo il desiderio di stare con lei e fermare il tempo zeynep gli spiega che non può uscire a causa delle restrizioni imposte dalla sua famiglia e emir suggerisce di usare qualcuno come copertura ad esempio asu kemal sta per uscire dal suo ufficio quando viene avvistato da asu la quale gli chiede dove stia andando lui risponde che sta andando a trovare i suoi genitori perché suo padre non sta passando un buon momento asu decide di auto invitarsi e kemal accetta cortesemente e la porta con sé a casa a cena kemal lascia intendere in modo sottile che la multa arrivata a suo padre potrebbe non essere stata un caso quando asu gli chiede se ha dei sospetti kemal non risponde direttamente preferendo ringraziare suo fratello per aver affrontato la questione tuttavia yussein cerca di cambiare argomento per evitare ulteriori discussioni mostrando disinteresse nel voler affrontare la situazione zeynep si prepara per uscire e sebbene kemal sia contrario nessuno sembra opporsi tranne lui kemal decide di vietarle l'uscita sottolineando la presenza di asu e la cena in corso promettendole che potrà uscire la sera successiva tarik interviene sottolineando che non può obbligarla a restare in casa ma kemal rimane irremovibile anche yussein si schiera dalla parte di kemal chiedendo a zeynep di restare senza discutere disperata zeynep si chiude nella sua stanza piangendo e informa emir che non può uscire di casa quest'ultimo risponde con calma dicendo che non è un problema e che aspetterà fino al giorno seguente asu ricordando le parole di emir che le suggerivano di avvicinarsi alla famiglia di kemal si reca nella stanza di zeynep e la trova ancora vestita che piange sul letto entra e le chiede se è innamorata zeynep senza rispondere la abbraccia ma non rivela di chi è innamorata kemal invia un messaggio a nihan dicendole che devono vedersi e le dà appuntamento nel bosco zeynep spiega ad asu che non le permettono di uscire nemmeno per andare al cinema allora asu le propone un piano dirà alla sua famiglia che andrà al cinema con lei così le permetteranno di uscire e potrà incontrare il ragazzo si tratta di una piccola bugia innocua per amore che non avrebbe fatto del male a nessuno zeynep ricorda che anche emir le aveva suggerito la stessa cosa e felice accetta e abbraccia asu ringraziandola kemal e nihan si incontrano nel bosco vicino al pozzo kemal inizia a esprimere i suoi dubbi riguardo alla situazione se emir è coinvolto nell'omicidio è certo che le cose non siano come sembrano fa notare a nihan che emir ha colpito proprio il suo punto debole che è ozan e che questo poteva essere l'unico modo che aveva per far la sua tuttavia nihan gli dice che non ci sono prove per dimostrare nulla e lo supplica di non darle speranze per un ritorno insieme poiché le farebbe solo del male kemal allora la abbraccia e le assicura che vuole solo aiutarla e proteggerla ma lei replica dicendo che ha visto delle immagini molto chiare mentre lui non le ha viste e per questo continua a parlare come se ci fosse ancora una possibilità kemal le chiede se ha ancora i video e nihan risponde di sì dicendo di aver fatto una copia perché sapeva che lui non si sarebbe fermato così gli consegna la chiavetta usb chiedendogli di non trascinarla in una speranza senza fine poi nihan si allontana e kemal torna a casa mettendosi subito a guardare i filmati dal momento in cui emir osan e le due ragazze sono entrati in casa fino a quando hanno seppellito il cadavere e mentre li guarda continua a pensare e a cercare indizi che possano dargli ragione il giorno seguente si tiene una riunione straordinaria alla holding cos giovane per ristabilire il potere decisionale di emir nell'azienda emir tuttavia sembra poco interessato e invia un messaggio a zeynep per organizzare un incontro in un lussuoso hotel quella sera stessa promettendole una grande sorpresa il suo obiettivo principale è quello di colpire duramente la sorella di kemal tutti i presenti alla riunione votano a favore di emir e galip si congratula con lui la sera a casa emir parla soddisfatto dei suoi successi contro kemal in azienda sostenendo che in sua assenza kemal ha trascurato alcune questioni importanti come il problema dei cittadini dei villaggi rimasti senza acqua onder mette subito in dubbio le sue parole convinto che kemal non dimenticherebbe mai cose così importanti salì passa davanti alla casa di emir e preso da un improvviso impeto di rabbia comincia a urlare e a battere sul cancello nella sua mente tornano le immagini di osan che ha bruciato la sua barca e gli ha portato via zeynep visibilmente ubriaco e fuori controllo continua a colpire il cancello con calci e pugni kemal dalla sua abitazione sente le urla e corre immediatamente per vedere cosa stia succedendo a casa di emir tutti si alzano ed escono arriva kemal e cerca di calmare salì che è completamente fuori di sé emir esce fuori e chiede a kemal di badare al suo amico salì allora inizia a inveire contro emir e kemal si scusa e si allontana con lui kemal cerca di raggiungere un accordo con salì che disperato non lo ascolta affatto gli urla di aver perso la donna che ama e la barca che rappresentava tutta la sua vita kemal prova a consolarlo dicendo che compreranno un'altra barca ancora migliore e che troverà una ragazza che lo amerà davvero tuttavia salì lo accusa di non comprendere la sua situazione e se ne va sempre più affranto a casa nian desidera parlare da sola con suo fratello ma vildan glielo impedisce e chiede al figlio cosa ha detto salì chiede se sta ancora frequentando zeynep ma osan esplode in un impeto di rabbia e disperazione confessa di aver dato fuoco alla barca di salì e di amare zeynep di essere ossessionato da lei di essere geloso e di non essere riuscito a dormire né a mangiare per molti giorni ma nessuno di loro si è mai preoccupato di come stesse honder bildan e nian lo guardano dispiaciuti ma osan continua a urlare dicendo di essere stanco di sentirsi sempre in debito con loro ribadisce di essere esausto e di desiderare solo un po di sostegno poi piangendo rassicura sua madre dicendo che zeynep non lo vuole né lo guarda andato via osan nian informa la famiglia che quella notte non resterà a casa ma andrà a dormire dalla zia leila lasciando tutti senza parole e mir le fa notare che questo comportamento non gli piace affatto ma lei risponde che non le interessa ciò che piace a lui vuole solo pensare alla sua vita durante la notte ubriaco salì gira per le strade di istanbul due uomini lo notano e si avvicinano lodando il suo coraggio nel prendere di mira le case a quell'ora tarda tuttavia salì li contraddice chiedendo se siano scagnozzi di emir questo scatena una breve rissa interrotta dall'intervento di kemal che mette in fuga i due uomini probabilmente inviati proprio da emir invece di ringraziare l'amico salì continua a dirgli che non può capirlo e lo esorta ad andare via kemal visibilmente dispiaciuto chiama emir il quale vedendo il nome di kemal sullo schermo risponde immediatamente kemal furioso inizia a sfogare la sua rabbia contro emir accusandolo di credere di poter controllare tutto e tutti di voler comandare il mondo senza rendersi conto che le situazioni possono cambiare improvvisamente kemal incita emir a comportarsi da uomo e a smettere di ferire le persone intorno a lui per ottenere ciò che vuole emir risponde che non può affrontarlo ma kemal ribatte dichiarando che è già in guerra con lui e lo esorta a comportarsi da uomo e ad affrontare direttamente i suoi problemi con lui anziché colpire coloro che gli stanno vicino conclude affermando che se nessuno gli ha insegnato a essere uomo lo farà lui stesso niambussa alla porta di casa di leila e le chiede se può passare la notte da lei lei la felice le dice che è la benvenuta e la fa accomodare nihan desiderando sfuggire alle tensioni familiari trova un rifugio sicuro a casa di sua zia ribadisce il legame di parentela e chiede a leila di raccontarle degli anni perduti tuttavia leila risponde che non servirebbe a nulla poiché quegli anni ormai sono trascorsi ma nihan insiste leila la invita a non commettere il suo stesso errore di fuggire e non affrontare le cose in quel momento qualcuno bussa alla porta dove c'è kemal nihan sorpresa si alza di scatto quando kemal entra nella stanza si salutano felici di vedersi ma anche imbarazzati dopo un momento di gioia condivisa quando leila si allontana kemal riprende il discorso su osan sostenendo che emir sia sicuramente coinvolto nihan però non vuole sentire niente e gli chiede di chiudere l'argomento poiché è lì per staccare la spina da tutto tuttavia kemal cerca di farle capire che chi sta minacciando emir potrebbe aver capito che le cose non sono andate esattamente come lui sta facendo credere zeynep è al telefono con emir che le mostra la sua villa a santorini sul computer dove prevede di trascorrere l'estate insieme a lei entusiasta zeynep dice che non vede l'ora di incontrarlo a casa di leila quest'ultima propone di giocare a obbligo verità comincia kemal che sceglie verità quando leila leila gli chiede se ama ancora nihan che mal esita un istante prima di rispondere poi messo alle strette ammette di amarla ancora moltissimo ma di comprendere che l'amore da solo non è sufficiente ma nihan lo guarda e sorride felice di sentire quelle parole quando è il turno di nihan sceglie il coraggio leila le dice che deve invitare kemal a ballare nihan non esita e lo fa così kemal si ballando con lei e condividendo un momento che vorrebbero non finisse mai will dan temendo di aver perso i suoi figli e di aver ormai perso il loro sostegno riceve parole di conforto da under il quale la invita a rimanere tranquilla sottolinea che nella situazione attuale l'unica cosa che possono fare è aspettare che nihan e osan ritrovino fiducia in loro e si riavvicinino kemal nihan e leila trascorrono del tempo insieme in giardino bevendo tè e scherzando e più tardi nihan e kemal si addormentano quando si svegliano lei gli dice che il sogno è finito e che deve tornare alla sua prigione kemal le ricorda che non è obbligata a farlo ma lei gli chiede di smetterla le cose non possono cambiare quindi è inutile che insista gli chiede di bruciare la chiavetta usb e se ne va durante la mattinata kemal è al telefono con a chi il quale gli fa notare che l'incidente al villaggio sembra essere un complotto nei suoi confronti kemal ammette di esserne consapevole ma sostiene anche di trovare il modo per uscirne a chi gli assicura la sua fiducia totale e terminata la chiamata scopriamo che a chi si trova in ospedale in attesa del suo turno per la seduta di chemioterapia è evidente che lo zio di asu è gravemente malato al villaggio gli operai stanno cercando di lavorare ma un gruppo di donne si posiziona davanti ai trattori per impedirgli di farlo una folla di persone comincia a urlare contro gli operai e quando arriva kemal promette che si occuperà personalmente della questione chiedendo loro di dargli fiducia quando kemal alza lo sguardo vede taric in lontananza così si avvicina a lui e gli chiede cosa ci faccia lì taric con fierezza risponde di essere stato mandato da emir come supervisore e gli fa notare un'irregolarità la cui responsabilità è proprio la sua kemal ribatte che tutto è stato orchestrato da emir ma che quest'ultimo ne pagherà le conseguenze poi invita i cittadini a unirsi a lui e avviare una causa legale emir ignaro di quanto stia succedendo risponde ai giornalisti che lo assediano fuori dalla sua azienda dichiarando che durante la sua assenza il responsabile del progetto per la centrale termoelettrica kemal soidere è stato negligente causando danni a tutti i cittadini promette quindi di prendere personalmente in mano la situazione per avviare al più presto i lavori e ripristinare tutto kemal e alcuni cittadini si recano in tribunale per presentare il ricorso e kemal rassicura tutti dicendo che andrà tutto bene tu fan informa emir che kemal ha presentato una denuncia nei confronti della holding cos giolo questo significa che ora le loro mani sono legate e non possono fare nulla per la centrale termoelettrica emir furioso chiama subito zeynep che nel frattempo è in macchina con asu e sta raggiungendo il cinema asu non sa che si tratta di emir e pensa che zeynep stia incontrando il suo fidanzato kemal si reca nel quartiere di zehir e getta la chiavetta usb nel fuoco zehir lo raggiunge e kemal guardando la chiavetta che brucia nel fuoco gli chiede quale sarebbe la prima pista da seguire se si sospettasse che qualcuno abbia ucciso qualcun altro zehir sorpreso dalla domanda risponde che la prima cosa sarebbe cercare l'arma e controllare le impronte digitali mentre la seconda sarebbe la ricerca del cadavere poiché senza cadavere non c'è omicidio kemal riflette su ciò che gli ha detto zehir lo ringrazia e gli dice che riesce sempre ad aprirgli la mente zeynep arriva al cinema e emir la raggiunge pronto a trascorrere la prima notte insieme a lei terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata